salve a tutti amici youtube benvenuti o bentornati sul mio canale sul mio sfondo avenida presidente vargas pieno centro di rio di genero ma non parlo del carnevale finalmente ritorno a parlare di telefonia mobile sì perché finalmente c'è una novità è stato lanciato un nuovo operatore di telefonia mobile virtuale si chiama veri mobile chi è beh è la risposta low cost di wind 3 un po come ha fatto vodafone con o mobile beh l'offerta è molto semplice sul rete wind 3 rete con i ravi in tre minuti limitati sms illimitati e 30 giga il costo 4 euro e 99 quando tornerò in italia prenderò una sim di veri mobile per testarla e vi farò una recensione completa ma era doveroso parlarvi di questa novità nel campo della telefonia già se ne parlava da un po di tempo ma è diventato ufficiale veri mobile winter e vediamo un pochettino che cosa ci riserva questo nuovo operatore che come prezzi va a stracciare tutti quanti questa è un'offerta che sul loro sito dicono sia riservata ai primi 20 mila sottoscrittori quindi affrettatevi e approfittate di questa offerta di veri mobile wind 3 un po come è successo per gli utenti della prima ora di iliad 5 99 30 30 giga minuti limitati sms limitati insomma wind 3 che fa concorrenza a iliad sulla stessa rete con contenuti similari insomma vediamo un po la battaglia della telefonia mobile si è riaperta